Se uno vuole seguire o approfondire un programma che non è incluso nel pacchetto, ha la possibilità anche di farlo. Entrante la DIM ho avuto il contatto di due aziende, di cui uno l'ha rifiutato mentre uno l'ha accettato. E poi esternamente ho avuto un contatto con una mia ex collega che mi ha richiesto come tecnico CAD perché aveva bisogno per il lavoro. Se l'azienda lo richiederà dovrà approfondire il 3D e il rendering specialmente in tradizio programma di materiali studi max che abbiamo fatto. Beh, se qualcuno ha una situazione che cerca lavoro e non lo trova, magari fare un corso di approfondimento, magari di rinnovo dei programmi che mi può sempre servire, conoscere un programma di più e anziché conoscere di meno, fare un corso molto semplice a questo. In maniera interessante. Ciao a tutti!